La vita recita un antico proverbio, è fatta a scale, c'è chi scende e c'è chi sale. Stavolta a scendere, anzi a precipitare, è il sindaco di Arezzo Giuseppe Fanfani. Ben 37 le posizioni che perde rispetto allo scorso anno nell'analisi di IPR Marketing. La classifica, apparsa sul quotidiano sulle 24 ore, fotografa la situazione dello scorso anno e la mette a confronto con le percentuali di gradimento rispetto al giorno dell'elezione. Nel 2012 Fanfani occupava la 51esima posizione tra i sindaci più amati d'Italia. Adesso dalla 53esima precipita all'ottantesima posizione per un gradimento pari al 46,5%, dunque 4,7 punti in meno rispetto alla sua elezione. Tra coloro che invece salgono c'è Marco Donati, deputato a Rettino del PD, medaglia d'argento, tra i parlamentari toscani per numero di presenze in aula con il 98,86%. I numeri sono pubblicati nel sito openpolis.it. Marco Donati rientra anche tra i primi 15 parlamentari in assoluto più presenti. Al Senato un risultato simile lo conquista la senatrice del PD Donella Mattesini con un 94,49% delle presenze. Record negativo invece per il parlamentare di Forza Italia PDL Maurizio Bianconi che conquista due titoli, quello del toscano più assenteista e quello del più ribelle per aver votato per ben 89 volte diversamente dall'indicazione del suo partito.